ben ritrovati a quarta di copertina oggi parleremo di arte faremo un viaggio alla riscoperta di un artista viaggio bellano e lo faremo con una critica d'arte d'eccezione nota a livello nazionale la dottoressa carla bertone che è venuta a trovarci proprio per parlare di un grandissimo lavoro che è stato fatto che vedete io ho il piacere di presentare praticamente in anteprima nazionale perché la prima volta che quest'opera omnia su biaggio villano lascia la tipografia e l'ha fatto per venire qui a rivarola obiettivo news per presentarsi ai nostri spettatori qui a quarta di copertina benvenuta carla e iniziamo subito con il titolo di questo catalogo biaggio bellano opere dal 1950 al 2007 un catalogo che riunisce le opere di un uomo che era un personaggio perché comunque era un uomo che ha rappresentato la sua epoca che ha vissuto gli anni 70 gli anni 60 un'epoca di grandi cambiamenti anche sociali che lui come artista ha assorbito e un po' trasmesso alla sua arte come nasce questo tuo sessantottesimo catalogo d'arte si nasce con molta difficoltà rispetto agli altri e per questo sono doppiamente orgogliosa una parola che non mi piace contenta gioiosa di poterlo presentare perché in un periodo di chiusura di low down e con difficoltà anche proprio a interfacciarci a muoversi a vedersi e soprattutto a selezionare quelle che sono state le fotografie dal vero perché a monitor l'arte ha sempre delle grosse difficoltà di resa nel senso che non tutti i monitor sono tagliati tarati nello stesso modo ogni device ha la propria luminosità quindi è stata una difficoltà abbastanza importante realizzare questo catalogo anche perché la veste grafica perché per esempio è stata studiata da una bravissima grafica con cui collaboro da tantissimi anni più di vent'anni che Chiara Borda ha campionato realmente i colori dalle opere stesse di Biagio Vellano e si è scelto un polo di eccellenza anche per la stampa che è l'artistica di Savigliano che come dice il nome stesso è una tipografia proprio specializzata per l'arte perché in fase di stampa realizzare qualsiasi dépli a carattere commerciale è abbastanza semplice realizzare un catalogo che presenti quello che è il lavoro che è un lavoro veramente d'arte della tipografia è assolutamente un biglietto da visita che poi viaggia in tutto il mondo in effetti questo catalogo anche una traduzione che è stata fatta da Cinzia Lago che è una traduttrice madrelingua che ci ha seguito passo passo nella traduzione dei testi in questo lavoro e vuole avere un carattere proprio internazionale c'è già un museo in Svizzera che è interessato l'esposizione delle opere di Biagio Vellano. Le fotografie? Le fotografie sono state fatte da un fotografo molto vicino alla famiglia che è Gianfranco Saettone sono state fatte in diverse fasi proprio per adattarsi anche al formato un formato molto grande quello di questo libro d'arte perché è un libro d'arte nel vero e proprio senso della parola e con molta difficoltà perché i disegni e i pastelli sicuramente sono opere molto più semplici da fotografare ma i materici che sono le opere più importanti per quanto riguarda questo catalogo sono opere molto scure cupe con delle caratteristiche di introflessioni e stroflessioni che non sempre assorbivano la stessa luminosità per cui fotografarle dare una resa in tridimensionale di questi materici non è stato affatto facile ma è stato veramente bravo questo fotografo. Andiamo per gradi altrimenti tu ci sveli già il finale del film e non va bene salutiamo intanto quella che è un po' la nostra regista dico nostra perché anch'io ho avuto il piacere di lavorare con lei che è Giuseppina Pinuccia Clemente che è stata per tutta la vita la compagna di questo artista straordinario e anche lei una donna straordinaria molto forte di carattere che riesce a dirigere anche noi due e questo è tutto dire. Assolutamente. Un grande saluto a Pinuccia che non è qua con noi ma è come se lo fosse. Ma è presente in catalogo in quanto lei ha presentato proprio l'uomo l'artista con i suoi ricordi di una vita intera trascorsa insieme e soprattutto a lei è stata affidata un'eredità scritta testamentaria veramente complessa da portare avanti ed è per questo che è stato fatto questo catalogo praticamente un catalogo generale dell'opera omnia e del pensiero dell'artista dell'uomo, del filosofo, dell'esteta Biagio Vellano perché era un personaggio veramente complesso. Io ci ho messo praticamente dall'ultima mostra che abbiamo fatto in cui tu hai fatto da ufficio stampa al foyer secentesco a Vercelli. Tutto l'anno del lockdown l'ho passato a rivedere questa collezione d'arte, a selezionare le opere, a controllare il materiale fotografico ma soprattutto a rileggere una miriade di fogli, di taccuini, di appunti, di quaderni in cui c'era proprio l'essenza dell'uomo e l'essenza dell'artista ma soprattutto il grande tormento e cercherò di spiegare anche questo, questo fatto importantissimo sotteso alla figura di Biagio Vellano ed è stato fondamentale anche il dialogo con la signora Clemente perché tante frasi slegate l'una dall'altra e slegate poi dall'opera avevano bisogno di un commento e soltanto chi ha potuto star vicino all'artista mi ha dato la chiave di lettura giusta e mi ha fatto penetrare nella sensibilità dell'animo, nelle pieghe dell'animo di quest'uomo. Quindi è stato un lavoro artistico ma anche di interiorizzazione di chi era Biagio Vellano, di quali erano le sue caratteristiche. Ecco riesci con pochi tratti a far capire anche a noi chi era Biagio Vellano perché vedo sfogliando mentre tu parli perché io ho visto il catalogo a monitor perché l'ho avuto per preparare la trasmissione ma la prima volta che me lo trovo davanti devo dire sia da un punto di vista di grafica sia per la fotografia è eccezionale e poi c'è questo breve spaccato della vita di Vellano che è veramente bello ci sono le fotografie di un'epoca che l'Italia non rivedrà mai più perché infiorire di arte, di pensiero, di filosofia di cui Biagio Vellano è stato un po' anche il testimone e uno degli artefici con la sua arte. Sì, allora qualche notizia sulla vita di Biagio Vellano lo abbiamo dal fratello, da Pierangelo Vellano che ci ha dato alcune note introduttive dicendo che già fin da bambino manifestava comunque uno spiccato senso creativo, artistico, creava con le proprie mani dei veri e propri manufatti, dei presepi addirittura per Natale, dei disegni continui, la sua era una ricerca continua, approfonditi di studi classici, si è poi realizzato come designer architetto e architetto con uno studio di architettura di progettazione di interni e questo lavoro l'ha assorbito per molto tempo, parallelamente alla visita, al viaggio e alla visita di tutti i più importanti musei del mondo. Lui contemporaneamente ha una realizzazione personale piuttosto importante perché era stato riconosciuto a livello nazionale come architetto, ha comunque approfondito tutta la storia dell'arte studiando le biografie degli artisti e leggendo negli scritti e assorbendo proprio il fare creativo, il processo creativo, tant'è che so che nel suo studio si avvicendavano poster, riproduzioni di opere, quindi mentre lui lavorava aveva sempre l'occhio e la mente all'arte. Ad un certo punto della sua vita decide di diventare un artista puro, di dedicarsi completamente all'arte, di smettere di lavorare per manifestare in toto il proprio talento. Ha strappato qualsiasi opera fosse appesa alle pareti e ha detto dicendo adesso che sono io a creare, sono io a fare. Tutto questo però lo ha messo ovviamente in subbuglio interiore, l'ha messo in discussione perché fin da subito la mano del grafico del designer aveva quasi un tratto automatico, cioè come appoggiava la penna sul foglio uscivano dei disegni che sono presenti nel catalogo nella prima sezione, uscivano dei disegni con pochissimi tratti molto espressivi, molto belli, riconoscibilissimi. Le prime opere a disegno praticamente ci riportano il simbolismo dell'uomo, della donna, dei loro rapporti, dei rapporti umani, della quotidianità, ma sono opere veramente icastiche ed espressivissime. Praticamente è stato riconosciuto da subito questo suo talento, tant'è che nei bar, nei ristoranti, preso così da un volto, da un viso, si lasciava tirare con una penna immediatamente a ritrarre il personaggio che aveva di fronte e quasi glieli volevano strappare di mano. Lui non ha mai voluto dare via nessun'opera perché a un certo punto, viaggiando e rendendosi conto di quelle che erano le correnti emergenti, c'era un grandissimo subbuglio d'arte in questo periodo che adesso vorrei delineare brevemente, si rese conto che l'arte e il suo talento erano una cosa. Il mercato e l'esposizione, le mostre, i musei, il riconoscimento di quell'arte era un'altra cosa che lui non voleva accettare. Aveva quasi il timore, una volta resosi conto della propria vena creativa così dirompente e che aveva queste necessità impellenti di essere realizzata, che se avesse avuto a che fare col denaro e con la mercificazione della propria opera, avrebbe quasi irrimediabilmente perso il proprio talento. Questo è ciò che lui temeva perché si è quasi sentito investito di un dono, di una sacralità, di un talento che veniva comunque dall'alto anche se non necessariamente da Dio perché lui non era affatto presuntuoso, era un uomo molto umile, molto vicino alla gente e molto aperto a capire, a conoscere, ad imparare quotidianamente fino all'ultimo momento. Tuttavia si rese conto che la cosa più importante per lui era il fare, il creare. Ecco io ti interrompo un attimo perché mentre tu prendi un po' fiato e ti prepari anche a delinearci un po' meglio il periodo, lo stile, la corrente che rappresenta Biagio Vellano, vorrei ringraziare Obiettivo News perché ci siamo veramente trovati in imbarazzo perché in questi giorni preparando la tua intervista abbiamo visto delle immagini bellissime, immagini dell'uomo Biagio Vellano ma anche delle opere e fare una scelta è stata veramente difficile. Ma la nostra preziosa regia di Obiettivo News ha pensato di sfruttare tutto il materiale perché togliere qualcosa sembrava brutto, sembrava impoverire un'immagine, sembrava depauperare un po' il messaggio che si voleva dare. Quindi sono riusciti i nostri magici Andrea Solavagione e Magda Bersini a montare un filmato con tutte le immagini, sia i disegni, sia i pastelli, sia i materici di cui poi di volta in volta tu ci parlerai in modo che chi ci guarda da casa online, sui social, su YouTube, sul sito di Obiettivo News riesca a capire l'importanza e la varietà di questi quadri che magari visti da casa sembrano una cosa strana ma hanno una dinamica, diciamo anche una genesi e una gestazione perché lui partoriva proprio le sue opere, le sentiva nell'anima e poi dava corpo, che sanno anche quasi di modernità perché lo vedremo soprattutto con i materici, lui sfrutta tutti i materiali recuperandoli anche, quindi un green antelitteram. C'è da dire, cosa fondamentale perché ho visto passare anche delle foto proprio dell'uomo in montagna, in arrampicata, così in escursioni, che cosa che non ho rivelato finora, che al di là del disegno che è estemporaneo, quindi nell'immediatezza del soggetto ripreso, il vero soggetto dominante della sua arte è la natura. Quindi a un certo punto, cosa che compare sulla copertina, addirittura sul retro della copertina, lui dice mi sono soffermato per anni a guardare i muri, le strade, le rocce, gli specchi d'acqua, ad un certo punto, come un puer eternus che gioca quasi, mi sono reso conto che era proprio quello che io volevo fare. E in effetti già nelle fotografie, che sono proprio le primissime opere d'arte che lui ha fatto, perché sono delle opere d'arte informali, semplicemente fotografando i ghiacciai, i licheni, i muschi, i ghiacci perenni, le cascate congelate, insomma lui riusciva a vedere un qualcosa andando oltre, che era un disegno artistico, che era una linea, che era un'espressività della natura, ed è quello che poi lui ha ricercato per tutta la vita, il mettersi a confronto col creato e quindi con il dono e con la natura madre creata, ha fatto sì che lui si distaccasse sempre di più dal mondo del gallerista, dal mondo del museo, del commercio, anche addirittura dai rapporti umani. Lui a un certo punto, per creare, si è talmente annullato e si è talmente messo in discussione, compromettendo anche poi totalmente la propria salute per creare questi materici, vedremo i motivi, ha fatto sì che lui si chiudesse, un po' come il poeta che si chiude nella Torre d'Avorio, lui si è richiuso in questo studio, che era diventato ormai atelier d'arte, per creare. Ecco, tu prima eri partita per delinearci un po' il periodo di Biagio Vellano, vogliamo approfondire, poi entriamo proprio dentro al catalogo e vediamo le tre sezioni, i disegni pastelli e materici. Sì, avevo accennato il fatto che lui aveva iniziato all'inizio degli anni 50 appunto questi viaggi esplorativi, artistici e a un certo punto si rende conto che ci sono delle vere e proprie commissioni ideologiche, questo ormai è scritto in tutti i libri, in cui c'era un'imposizione, quasi una guerra fredda culturale per cui l'America imponeva il suo astrattismo, il suo dripping, i suoi scocciolamenti, l'arte di pollo che era quella più sbandierata, più importante. L'Europa cosa fa? In clima post bellico si rende invece conto che la bellezza come qualcosa di elitario, come qualcosa di legato all'apparenza, al denaro, come volevano in fondo venderlo gli americani, al consumismo anche, non andava bene, per cui nasce l'arte povera. Cioè esattamente l'opposto. E lui studiando ed approfondendo proprio i più grandi artisti dell'arte povera, a lui contemporanei, come Burri, Tapies, Bai, il nostro torinese Gilardi, si rende conto che anche lui voleva usare la materia. Però non accettava che fosse un museo a legittimare come opera d'arte una montagna di stracci, né tantomeno il fatto che lui dovesse scendere a dei compromessi per poter creare. Quindi capisce assolutamente di vorrei rientrare in una corrente materica, ma non per utilizzare la materia fine a se stessa, ma perché la materia fosse funzionale alla sua opera, alla sua creazione. Esattamente l'opposto. Ed è per questo che lui si distacca appunto da questi movimenti artistici, diventando un unicum in questi anni, perché modernissimo ne assorbe le correnti, ma le fa proprie. E inizia a creare, soprattutto a fare delle cose divertentissime. Correvano in, praticamente nei cantieri dismessi a cercare materiali, a rischio di essere denunciati. Andavano in montagna per vedere proprio quella che... È stata veramente una compagna di vita nel vero senso della parola. È stata la musa, è stata la confidente, è stata quella che dava anche valore a quest'arte, perché... E lo fa ancora adesso. Assolutamente. E questo è il suo ruolo che le è stato proprio affidato. Che lo fa, diciamolo, con grande signorilità e discrezione, perché poi ci sgriderà, perché non vuole essere lodata, non vuole apparire. Assolutamente. Lei è sempre stata all'ombra di quest'uomo e in realtà ha permesso anche il fatto che lui lavorasse all'arte e basta. Lei si è occupata anche praticamente di tutto ciò che comporta una vita quotidiana, permettendo all'artista di essere tale. E non è facile vivere accanto a un artista. Soprattutto ad un artista che mette così tanto se stesso in discussione, con alti e bassi, è stare vicino ad un uomo che sceglie di annullarsi per l'arte, di diventare egli stesso parte dell'arte che lui stava creando. Completamente assorbito. Non è facile. È come dividere un uomo, il proprio compagno, con un altro amore. Assolutamente. Altrettanto grande. Entriamo nel merito. Una domanda forse sciocca. L'arte di Vellano si divide in periodi o lui comunque contemporaneamente si dedica ai materi, ai disegni e ai pastelli. Sei riuscita a dividere in fasi o lui di volta in volta, a seconda dell'ispirazione, cambia la propria produzione? Era un artista molto libero. Per cui a seconda dell'ispirazione, come giustamente stai suggerendo, creava e usava tutti i medium. Lui era un artista completo. Lui poteva utilizzare dall'olio all'acrilico, all'abiro, quella che usava per fare i progetti, che poi con le dita bagnate sfumava per dare profondità, rotondità, luminosità ai disegni. E soprattutto si vede la sua genialità e come ha assorbito le correnti contemporanee nei pastelli, che è la seconda sezione del catalogo che copre tutte le epoche perché, come dicevamo, qualsiasi tecnica viene utilizzata fino alla fine, a seconda del momento. La tecnica dei pastelli, dicevo, è molto interessante perché lui praticamente fotografava parte di disegni, di acquerelli o di oli, li faceva ingrandire e con la tecnica serigrafica faceva fare dei cartoni. Su questi cartoni interveniva a pastello. Utilizzava ben dieci tipologie di pastello. E anche qui fa molto pensare tutto questo perché il pastello nasce nel 1500 ed è un qualcosa che attira subito tantissimo gli artisti, tant'è che gli impressionisti usano il pastello in maniera molto importante. Perché? Perché è pigmento puro ed è un pigmento morbido, cioè morbido nel tratto, ha una sua morbidezza. Anche proprio al tatto, quando tu passi i polpastrelli su un'opera che è stata fatta a pastello, ti lascia un senso di seta, di setosità, di velluto. E questo è ancora presente nelle sue opere, anche se sono degli anni 50. Perché lui le interventava con diverse stratificazioni e usava pastelli sia polverosi sia cerosi. E questo suo intervento serviva a dare una morbidezza all'opera e a dare anche una poesia. Questo perché? Perché in questi anni Warhol stampa in maniera serigrafica le opere, interviene con i brillantini, con l'acrilico, facendo delle opere pubblicitarie, delle opere comprensibili a tutti. Lui continua a creare invece Vellano la poesia, un qualcosa che va oltre, è difficile da leggere, va oltre il dato estetico. Ti dà un'emozione più che altro, è un'emozione fatta opera. Ecco, vediamo le tre sezioni. I disegni. Facci un flash sulla sezione disegni, poi faremo lo stesso con i pastelli e i materici. Mi soffermerei ancora sui materici perché sono veramente straordinari. I disegni sono l'opera più estemporanea in cui lui liberamente ritraeva le persone in libertà, specie a Venezia, specie a Lido, sulla spiaggia. Semplicemente coglieva la pose di una donna che leggeva, un gruppo di ragazzi, un uomo e una donna che si parlavano. Era come rubare l'attimo. Il fatto che la biro in un attimo non staccasse dal foglio serviva a lui a rubare l'attimo. Era un qualcosa, quasi un furto legittimato dal suo essere artista. Un qualcosa, una poesia, come all'interno di un racconto, una breve poesia, una breve riflessione. I pastelli. I pastelli sono quest'opera veramente, questo mare magnum di opere veramente eclettiche, kaleidoscopiche. Ci sono omaggi a Bacon, ci sono opere tratte dalla televisione che in quegli anni quando andava fuori banda creava degli zigzag. Lui fotografava questa televisione con queste immagini un po' sfocate e praticamente le faceva stampare e le reinterventava con questi pastelli di sfumature. Ne aveva delle scatole immense, migliaia di sfumature. E quindi creava queste opere molto particolari. Sembrano delle opere viste al microscopio, sembrano delle congregazioni di cellule, sembrano i tessuti di Missoni che in quegli anni facevano la stessa cosa. Prendevano questo zigzag delle immagini e creavano questi straordinari tessuti. Sono gli anni di questa grandissima creatività che viene fuori e che lui vive a piene mani, che lui prende a piene mani. I materici che possono sembrare a una prima impressione qualcosa di strano e poi si guarda meglio e si vede che sono degli organismi, lui li chiamava i formicai addirittura. Sì, lui trae ispirazione oltre che dalle rocce, dai ghiacciai, dalle pozzanghere in cui si specchia il cielo, dai muschi licheni che colorano le rocce di verdi acidi, di rossi rutilanti. Lui trae ispirazione, dicevo prima, anche nei boschi del ciclo della vita, della morte della pianta. E quando la pianta muore, diventa vita di nuovo. Cioè viene abitata da una serie di creature che organizzano la loro esistenza, la loro casa, il loro mondo. Lui entrava in questi mondi. Infatti ci sono materici che sono roccia, che sono terreno, che sono fango, che sono ghiaccio, o stalattiti o grotta. Ci sono dei materici che invece sono piccole congregazioni, di come ci fossero degli esteri che continuano a rosicchiare la materia. Sono dei lavorini molto minuti, sembrano fragili ma in realtà sono solidissimi. Perché i materici come nascono? Come dicevo prima, da questi furti organizzati di materiale, anche proprio... I più disparati, tra l'altro. Più disparati, ferri arrugginiti. Ossali di aragoste, di altri animali. Sì, perché poi sulla spiaggia prendeva anche conchiglie, prendeva quello che il mare abbandonava, legni, cordami e quant'altro. Ma soprattutto trovati o rintracciati i substrati di compensato, di legno su cui lavorare, praticamente la fase più importante dei materici è fatta per aggiungere. Cioè è fatta aggiungendo materiali, creando stratificazioni su stratificazioni. E se abbiamo visto prima i pastelli sono colore e luce, i materici sono ombra e materia. E sono dei veri e propri micromondi. Sono praticamente dei microcosmi che lui vuole rubare alla natura e ricreare. Con un fare di artista che metta in evidenza questi colori straordinari anche in una pozzanghera, anche in una roccia, anche in un legno ormai marcisciente o lavorato dagli insetti. E quindi come faceva? Praticamente con collanti, resine, con dei materiali acrilici e con veramente stratificazioni di ore e ore di colle, di colla a caldo, di vinavil, bruciava tutto col cannello. E interveniva poi successivamente aggiungendo altri materiali, fino a creare la superficie che aveva in mente di realizzare. Alla fine di tutto questo usava di nuovo dei pigmenti puri, che sono le terre, che sono queste polveri tratte veramente da materiali minerali, che vengono poi fatti aderire con dei collanti al substrato. E creando queste opere straordinarie, modernissime, come si diceva prima, non hanno tempo. Perché sono comunque parte del nostro pianeta, della nostra vita, della nostra madre terra. E lui aveva un rispetto, una venerazione tale per la natura, che voleva assolutamente essere in grado di imitarla, anche se non in maniera precisa, ma di ricrearla in qualche modo. Un lavoro che ha comportato quanto tempo questo catalogo, e per non farvi mancare nulla, realizzato in tempo di Covid, quindi completamente da remoto. Sì, è stato un lavoro di sinergia, per fortuna di persone che sono abituate a lavorare in questo modo, perché in campo editoriale si lavora moltissimo da remoto. Ho avuto la fortuna di vedere più volte sia le fotografie che le opere dal vero, per cui ho campionato nei miei occhi quelle che erano la realtà dei materiali che dovevo realizzare, che dovevo mettere nel catalogo, per cui assolutamente è stato qualcosa di difficile da realizzare, ma realizzabile. Però volevo terminare questa riflessione dicendo che questo lavorio che lui faceva con questi cannelli, purtroppo, nonostante lui usasse le mascherine come purtroppo facciamo noi in questo periodo di infezione, di Covid, hanno irrimediabilmente rovinato la sua vita, la sua salute. Ma è come se lui, fino all'ultimo, avendo lavorato sui suoi materici, avesse voluto rifugiarsi in un anfratto, in una stalattite, in una concrezione, in una piccola caverna di una delle sue opere, diventare lui stesso poesia, diventare lui stesso arte. Beh, se è vero che noi siamo tutto, siamo collegati a tutto, sicuramente Biagio Vellano con la sua arte ha saputo fondersi con la natura che tanto amava e sicuramente è ancora presente nelle sue opere e nella natura stessa che le ha ispirate. Ricordiamo che il catalogo è possibile consultarlo, scaricarlo, consultando il sito www.biagiovellano.com. Vi ripeto, www.biagiovellano.com. È un catalogo che al momento non prelude o accompagna una mostra perché purtroppo la normativa anticontagio impedisce di proporre un evento di questo tipo in maniera tra virgolette normale. Ma già da tanto tempo sono prenotate le sale di una prestigiosissima struttura torinese che non riveliamo, così i nostri telespettatori dovranno incuriosirsi e continuare a seguirci. Quindi ci sarà un evento molto importante a Torino, si spera, nell'autunno del 2021? Possiamo sperare? Ma dipende tutto dalla situazione contagio, dalla situazione affollamenti, dal quanto si possono affollare le persone, è tutto molto così. Teniamo le dite in croce. Certo, però il progetto è in aria, il catalogo lo accompagnerà assolutamente questa mostra che sarà incentrata proprio sui materi. Ecco, se intanto volete cominciare a conoscere meglio Biagiovellano, il catalogo, ripeto, si trova sul sito www.biagiovellano.com. Chiuderei questi ultimi minuti di intervista con una nota curiosa, perché tu ti sei calata nei panni di Biagiovellano, hai conosciuto la sua arte, hai conosciuto anche un po' la sua anima, perché comunque hai avuto l'onore e il piacere di leggere i suoi diari, i suoi scritti a mano, momenti in cui lui affidava alla carta stampata i suoi pensieri, magari anche più intimi, le ispirazioni di un momento. E questo comunicare tra te e lui, diciamo così, ha creato una sinergia tale che te lo sei sognato. E cosa ti ha detto? Sì, allora, probabilmente presa, immedesumandomi nel personaggio, presa dai suoi scritti, assolutamente, ho avuto quasi una guida mediatica nel realizzare questo catalogo. E a conclusione del tutto è come se alla fine ci volesse ancora un chiarimento, un qualcosa, perché l'artista si è veramente spogliato di se stesso, di quella che è stata l'architettura, di quella che è stata la storia dell'arte, un po' come ha fatto Picasso con l'art brut. Picasso a un certo punto dice, ci ha messo una vita intera a disegnare come un bambino. Perché? Perché soltanto rinunciando a noi stessi è quello che deve fare anche il critico serio, rinunciare le proprie sovrastrutture di pensiero per andare a fondo dell'anima di un artista. E lui ha fatto proprio questo. E io chiuderei questa bellissima chiacchierata, questa presentazione, con una piccola frase scritta di pugno dall'artista, perché fa capire lo spessore dell'uomo e la profondità d'animo di questa persona che ho sentito veramente vicino. Le migliaia di quadri appesi alle pareti del mondo sono occhi che guardano dentro di noi. Questi occhi chiedono il dono di noi stessi. Ed è solo così che un artista è tale. Ecco, noi ringraziamo tantissimo Carla Bertone per essere stata con noi. La invitiamo a tornare magari con il suo settantesimo catalogo, visto che questo è il sessantottesimo. Per il settantesimo festeggeremo un traguardo importante. Salutiamo Pinuccia Clemente che è qui con noi in spirito, anche se non c'è, ma sicuramente ci seguirà con attenzione. Le auguriamo di rimanere sempre così energica come è stata in questi anni per promuoverle e far riscoprire l'arte di Biagio Vellano, il compagno e l'amore di tutta la sua vita. Vi do appuntamento alle prossime puntate di Quarta di Copertina. Vi ricordo che partecipare è semplicissimo, basta scrivere a deborabocchiardo.com, si entra con mascherina e qui in studio tra me e l'ospite c'è un plexiglass di separazione, quindi la registrazione viene effettuata in totale sicurezza presso gli studi di Obiettivo News a Rivarolo Canavese. Io per ora vi saluto, vi do appuntamento ai nostri prossimi incontri, vi ricordo che tutte le puntate restano visibili sul canale YouTube, sui social collegati al nostro ospite a me o a Obiettivo News o sul sito di Informazione Obiettivo News, su cui trovate Quarta di Copertina, ma anche tante altre informazioni. Quindi rimanete con noi e appuntamento alle prossime puntate. Grazie per la visione!